Ehm, bravo. Etting kevokadoon seier into frozen crusher, into glifo. Perché è silenziato se puoi... ...voi giocare il body e basta. Ok ragazzi, Etting kevokadoon seier però. Oh! What? Oh mio Dio! Oh mio Dio ragazzi! E' scriptatissimo! Oh mio Dio! 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 Come on, can you just hit the Raza? Oh mio Dio! Are you serious?! Oh mio Dio! Oh mio Dio! They all went faaaasss?! Sì, basta che non è tutto, che problema c'è? Che problema c'è? Abbiamo quasi vinto! Go! Sì 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 Sì